Quanto abbiamo speso? Stasera andiamo a mangiare la pizza per Vincenzo Capuano a Ischia. Questo è l'ingresso che si trova nel giardino del Calise. Questo è il giardino del Calise. Qua è questo il forno. La legna, la scritta Calise. Questa è l'altra saletta. Allora, Elenia voleva sedersi nella sala di sopra e l'hanno fatta sedere nella sala di giù e già si è molto arrabbiata. Il mio amore con il pancione qui. Falla vedere, mamma mia. Facciamo notare, anche queste sedi sono molto plasticose. Ti mantengono? Sì, dai. Allora, vediamo un po' il menù. Qui abbiamo gli schizzi, mozzarella, insalata. Queste sono le uniche del maestro Capuano che partono da 11 euro. Poi abbiamo le pinze social. Vediamo la Margherita quanto parte. 9 euro. Però c'è anche la disponibilità del ruolo di calcolo con 3 euro in più. Allora, abbiamo ordinato 2, 3, 3, 3 fettatine che in realtà sembrano dei araccini. Maia, adesso la prendo. Eh, no, eh. Diciamo che la fettatina già non rispecchia i criteri napoletani perché c'è il pan grattato. Non ci vorrebbe il pan grattato. Vediamo l'interno. È una bella cremosa. In attesa che arrivano le altre vizie abbiamo avuto una ruota di carro, una don Vincenzo. Guarda che differenza. È un proporzio. E poi? E questa è anche l'euro. Ah, perché... Allora, questa la tagliamo? Cioè il carnicione ripieno. Vediamo com'è. Approvata, amore? Sì, delicata, mi piace. Devo ancora provare. Approvata? Con il giù. Abbiamo appena scoperto che la pizza è bruciata. Zan, zan, zan. Dopo che noi abbiamo terminato di mangiare, arrivà la pizza di Lenia. Che cosa hai finito? No, è molto male. Don Vincenzo. Don Vincenzo? No, detto fatto. Detto fatto, com'è? Fatima di patata viola, artigianale, fior di latte, pancetta e all'uscita. Chips croccante di patata viola, fornita di carabatata. Vai. Com'è questa pizza? La proviamo? Buona? Buona. Cosa è arrivata a lei, dottore? A Don Vincenzo che hanno preso anche prima le signore. Finalmente. Finalmente. Ed è arrivata anche la seconda ruota di carro, dato che quella era bruciata. Ora possiamo proseguire. Tagliamo. Quanto abbiamo speso? 100 euro 15. 20 euro per solo.